La polizia fa il punto sull'attività nella provincia di Firenze. Alcuni reati, ad esempio i furti, sono in aumento. Un incremento dovuto soprattutto alla crescita delle denunce. I cittadini, dice il questore, dimostrano di avere fiducia nelle forze dell'ordine. Sentiamo Valterrizzo. Luce ed ombre, dati che vanno interpretati, quelli forniti alla questura di Firenze, riguardo l'attività della polizia di Stato nella provincia, nel capoluogo. Tra i reati su cui si è concentrata l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media, ci sono di sicuro i cosiddetti reati predatori, furti in abitazione e in esercizi commerciali, che vedono un incremento, almeno per quanto riguarda la statistica. Ricontro dai dati forniti in conferenza stampa emerge anche l'incremento importante delle denunce. Fortunatamente in questo contesto cittadino vengono a denunciare e segnalare tutto quello che subiscono, perché la soglia di legalità, la voglia di legalità, anzi, è aumentata e maggiore in questo contesto. Interventi positivi della polizia di Stato per quanto riguarda i reati in ambito familiare. Grazie alle misure di prevenzione sono diminuiti i casi di violenza domestica, mentre si è registrato un aumento delle denunce per quanto riguarda gli atti persecutori. Capitolo a sé sono i reati compiuti dai minorenni. Il cosiddetto fenomeno delle baby gang, che ha anch'esso suscitato attenzione ai titoli sui giornali. Il fenomeno non è strutturale, spesso e volentieri nasce dalla mancanza, io dico, di cose serie o valori seri. Nel corso della conferenza stampa sono stati anche illustrati gli interventi dei reparti specializzati, della polizia di Stato, dalla polizia postale alla ferroviaria, alla polizia di frontiera e naturalmente la polizia stradale. Infine, una buona notizia per gli organici fiorentini della polizia. Sono stati assegnati 30 operatori appena usciti dai corsi di formazione, che stanno terminando in questi giorni la parte rimanente della formazione istituzionale, per cui stanno già lavorando affiancati a persone più esperte per dare una maggiore presenza in ambito del cittadino, particolarmente per le strade, a disposizione del cittadino e in particolare nel settore della prevenzione. Grazie.